Bene, possiamo iniziare. Io inizio salutando caramente Walter Privitera, amico oltre che docente di sociologia, un interlocutore davvero molto interessante, molto importante. Un'altra volta abbiamo discusso, qualche volta abbiamo discusso anche con qualche vivacità, sì, perché a me piace poi quando, come dire, le cose, c'è pensiero anche discutere vivacemente, andare a scavare diversi punti di vista, l'abbiamo fatto e abbiamo sempre trovato molto giovamento da queste discussioni. Mi fa piacere quindi adesso potermi chiedere questa lezione su il pensiero anticipatore di Ulrich Beck, la società del rischio. Ulrich Beck è stato un grande sociologo tedesco e Walter Privitera è sicuramente il maggior conoscitore del pensiero di Beck. Sono altri perché l'ha anche tradotto tutto, è il traduttore di Beck in italiano, quello che ha lavorato sistematicamente per farlo conoscere in Italia. Il pensiero di Beck ci è tornato in mente, che pensano solo a me, ma a tanti in questo periodo, perché lui non ha mai parlato di spillover, non mi sembra, io non avevo mai trovato il termine spillover nei suoi scritti, non avevo parlato di queste cose, però aveva introdotto un ragionamento sul rischio che ha molto a che fare con gli aspetti imprevisti in cui siamo trovati ad affrontare noi oggi. Per quello che ho pensato fosse un pensiero anticipatore con cui fare i conti e nessuno meglio di Walter può introdurci la riflessione sull'impianto strategico di questo pensiero. Walter, grazie ancora, perché parlate, Walter è in Germania in questo momento, è a Francoforte, grazie ancora a questo collegamento a lontano per poter entrare nel merito di questa questione. A te la parola, Walter. Grazie Ferruccio, ti ringrazio e ringrazio la Casa della Cultura per avermi dato questa opportunità, l'opportunità di partecipare a questo ciclo di incontri su temi così interessanti come le prospettive che si aprono in questo periodo di crisi profonda e inaspettata, con aspetti che noi non avevamo messo nel conto mai, almeno nella nostra generazione, una situazione di questo genere non si era mai presentata. Se pensiamo all'influenza spagnola, a questa catastrofe che è data esattamente cento anni fa, questa cosa che colpisce l'Europa, Max Weber muore improvvisamente per l'influenza spagnola ed è stata effettivamente una tragedia di dimensioni anche maggiori per quanto riguarda l'Europa, di quelle attuali, è interessante vedere che non si tratta di una esperienza che è rimasta nella memoria collettiva. Solo adesso ogni tanto se ne parla, ma è un capitolo stranamente rimasto dimenticato della nostra storia. Io qui cercherò di partire dal problema della pandemia, legandolo alla teoria di Beck, ma poi seguirò un percorso che segue, che in qualche modo affronta alcuni nodi fondamentali della riflessione di Beck e cercherò poi di metterli in rapporto con problemi che riguardano la situazione attuale, i rischi, le incertezze della situazione attuale, non soltanto legati alla pandemia, ma al quadro più generale della nostra società. Io partirei dicendo che Beck veramente è stato un anticipatore dei nostri tempi, ci sono dei teorici che hanno una grande precisione concettuale, una capacità di costruire degli impianti teorici molto raffinati. Beck è stato, credo, che il punto forte della sua teoria sia invece stata la capacità di individuare una incredibile capacità di intuizione e di penetrazione rispetto ad alcuni punti decisivi, senza per questo costruire una teoria complessiva, ma dandoci la possibilità di vedere dei problemi, delle cose che prima non erano chiari, non erano sufficientemente chiari. Il primo punto è proprio il concetto di rischio. Beck è stato il primo a descrivere in maniera completa, direi, la crisi ecologica incombente dei nostri giorni. Negli anni 90 era presente, naturalmente già c'erano i movimenti ecologisti in Germania, poi particolarmente presenti perché lì diciamo che sono partiti un po' prima che in altre parti d'Europa c'era una consapevolezza dell'importanza di temi legati all'ambiente, dei rischi per esempio legati alle centrali nucleari e così via. Ma Beck è stato quello che in un certo senso è riuscito a trovare le parole, a trovare i concetti per mettere insieme tutta una serie di consapevolezze sparse, di oscure convinzioni che erano diffuse, ma che non avevano raggiunto questa forma, come dire, chiara che invece troviamo nella società del rischio. Con la società del rischio Beck ci dice che noi viviamo in una società in cui al centro sta non tanto il capitalismo quanto l'industrialismo, cioè in una società in cui la produzione industriale, ricordiamoci che questo libro esce nel 1986, quando c'era ancora l'Unione Sovietica. e quindi Beck parla di società industriale per dire che in qualsiasi modo, in qualsiasi angolo della terra si prende in considerazione questo problema della produzione industriale, accanto alla produzione industriale si pone anche il problema parallelo della produzione di rischi. Il libro di Beck si apre proprio con questa tesi molto transciante, la produzione di ricchezza inevitabilmente comporta anche sempre la produzione di rischi. E questo a sua volta comporta ulteriori elementi di riflessione per chi studia la politica, per chi si occupa dei conflitti sociali e politici, perché Beck ci dice che in questo contesto, che produce ricchezza e anche rischi, anche la modalità di base dei conflitti politici, come l'abbiamo conosciuta finora, cioè quella di conflitti sostanzialmente distributivi, lotta di classe, insomma l'intero armamentario teorico che ci viene dalla tradizione marxista e che Beck in gran parte fa proprio, Beck però dice che oltre alla dimensione dei conflitti distributivi classici, si aggiungono i conflitti sicuritari, cioè conflitti che riguardano le condizioni con cui noi possiamo tutelare la nostra sicurezza. In un certo senso c'è una metafora bella che Beck sceglie e dice che finora abbiamo sempre pensato, abbiamo studiato in che maniera tramite i conflitti distributivi i vari gruppi sociali concorrevano per cercare di assicurarsi una fetta quanto più grossa possibile della torta del PIL, del prodotto interno lordo, oggi oltre a questo dobbiamo anche considerare altri conflitti, un'altra lotta che riguarda un'altra torta, la torta avvelenata dei rischi che incombono su tutti noi ed è una lotta al contrario, perché ciascun gruppo cerca invece di ritagliarsi la fetta più sottile possibile di questa torta avvelenata. Quindi, primo punto, questa centralità del rischio che Beck ci presenta in quella fase della sua riflessione, siamo alla fine degli anni Ottanta e che adesso direi che ci appare in maniera molto più dilatata e onnipresente rispetto al periodo in cui Beck viveva. Secondo punto, globalizzazione. Beck è uno tra i primi teorici, un vero e proprio pioniere della globalizzazione e il suo approccio è però un approccio diverso da quello classico degli economisti, perché Beck arriva alla globalizzazione passando dall'analisi dei rischi ambientali. Il suo libro Società del rischio ha questa risonanza eccezionale in Germania quando esce, anche per una circostanza fortunata, perché Beck manda alle stampe il suo libro nella primavera del 1986 e pochi giorni dopo c'è la catastrofe di Chernobyl. Lui fa in tempo a bloccare la stampa del libro, aggiunge in fretta e furia una postfazione, se non ricordo purtroppo, non c'è nell'edizione italiana, un po' colpa mia che a suo tempo non ho tenuto conto di questo aspetto, una postfazione interessante perché Beck descrive i giorni immediatamente successivi alla nuvola di Chernobyl e li descrive in termini di globalizzazione. Cioè ci dice la nuvola di Chernobyl viene sospinta dal vento verso nord-ovest e si trova poi a librare per un certo periodo di giorni sopra la penisola scandinava. È la Scandinavia che è, come dire, il luogo della modernità più compiuta, il luogo più razionalizzato, più modernizzato, il luogo in cui c'è il massimo della sicurezza sociale che mai sia stato raggiunto nella storia dell'uomo in questo posto che è il più sicuro del mondo per certi punti di vista, ecco che tutti gli uomini, come se fossero degli uomini primitivi, stanno con la testa in su a guardare questa nuvola e pregano, si augurano che la nuvola non si trasformi in pioggia, perché questo significerebbe il passaggio di tutta la radioattività sul suolo svedese e norvegese. E questo viene appunto interpretato in chiave di globalizzazione. In una società del rischio i rischi ecologici non conoscono frontiere, non si fanno intimidire o definire in termini nazionali, si tratta di cose che noi non possiamo che affrontare e che studiare in termini globali. Questo è un tipo di riflessione che poi, spero di avere il tempo, viene ripresa e che nella fase ultima... Il microfono di Walter. Walter, il tuo microfono. Si è spento. Adesso? Adesso va bene. L'hai riacceso. Sì. Allora, no, dicevo, adesso non so quando si è spento il... Un attimo fa, quindi. Ah, un attimo fa, va bene. Allora, sostanzialmente, questa riflessione sulla globalizzazione porterà poi Beck a occuparsi anche di colmopolitismo, lo vedremo poi più avanti. Il terzo aspetto in cui Beck si rivela un anticipatore e forse lo fa però in una maniera un po', come dire, un po' inconsapevole in parte è quello di trovare nomi, di dare un volto in qualche modo ad un mutamento di paradigma che, secondo me, proprio in quegli anni si cominciava a prendere forma ed è un mutamento che io chiamerei un passaggio da una concezione della società in termini di sistema dove questa nozione di sistema era una nozione che comportava tutta una serie di, come dire, di corollari di tipo negativo, le retoriche delle analisi sociologiche e anche dei movimenti di quegli anni, anni 60, anni 70, siamo in una fase ancora influenzata dalla guerra, sono delle retoriche, scusate, in cui si attacca il sistema, si critica il sistema e il sistema veniva concepito come qualcosa di oppressivo. Quindi, in un certo senso, noi a distanza di tempo possiamo dire l'esperienza storica, collettiva del fascismo, del nazismo, porta poi la riflessione successiva nel dopoguerra a concepire la società in questi termini polizieschi oppressivi del sistema. E tutte le retoriche critiche di quegli anni erano retoriche anti-sistema. L'idea è che il sistema non si riforma, si abbatte, il sistema è... Adorno parlava di un mondo totalmente amministrato, c'erano altre retoriche come, non so, quella del rizoma o della resistenza contro il sistema. Insomma, un mondo in cui la critica era una critica, come dire, di tipo che cercava di minare le basi del sistema. Una delle immagini tipiche di quegli anni era l'idea di una critica che fosse sabbia capace di bloccare i meccanismi del sistema. A partire dagli anni Ottanta noi abbiamo un quadro diverso. Un quadro in cui invece al posto del sistema si afferma una pluralità di soggetti che non sono più comprensibili in maniera centralizzata e Beck trova il linguaggio, trova il modo per esprimere questa sua consapevolezza in parte oscura per lui stesso, quella di descrivere il mondo non in termini di sistema, ma in termini di irresponsabilità organizzata. Il mondo di oggi è un mondo caratterizzato da una irresponsabilità organizzata ed è il mondo appunto della globalizzazione economica e non politica. È il mondo dei soggetti, dei grandi soggetti transnazionali in qualche modo liberati dai vincoli statali che operano seguendo soltanto le proprie logiche di breve periodo ed è un mondo appunto che ha questa caratteristica di essere particolarmente fragile rispetto a possibili crisi che non sono crisi in qualche modo provenienti da un eccesso di regolazione del sistema ma al contrario appunto da una situazione di nuovo per parlare con Beck di irresponsabilità organizzata e anche i movimenti quindi cambiano i movimenti diventano dei movimenti che invece di avere questi tratti anarcoidi cominciano ad essere dei movimenti che chiedono leggi, istituzioni, chiedono persino tasse come la Tobin Tax. Noi abbiamo un quadro, una generazione a partire da una decina d'anni in questa parte di persone che hanno un orizzonte di critica della società ma è completamente diverso da quello che c'era precedentemente. Beck è uno tra i primi ad avere questa consapevolezza. Ora, due parole soltanto molto rapidamente per vedere quali sono le radici di questo impianto di Beck. Beck in qualche modo riprende una tradizione sociologica e in parte filosofica tedesca che è quella di una critica della tecnica. La tecnica viene già vista da Weber per esempio ma soprattutto da Galen come una specie di destino che incombe su di noi e che necessariamente limita le nostre capacità di azione. Noi diventiamo schiavi della tecnica e non possiamo fare altro che seguire questa macchina che abbiamo costruito noi e che non possiamo e che non riusciamo più a governare in qualche modo. Questo motivo teorico è un motivo che però stava anche in altri autori, che era presente in Simmel, è presente nella prima scuola di Francoforte, Orkheimer e Adorno. E per dare un'idea forse più così suggestiva di quest'idea di fondo, vi leggo una frase brevissima di Orkheimer, Orkheimer, eclisse della ragione, Orkheimer scrive la macchina ha gettato a terra il conducente e corre cieca nello spazio. Quindi questa immagine di una società che è vista come una specie di astronave che perde il conducente, noi ci stiamo dentro e nessuno sa pilotare questa astronave. Siamo quindi in balia di un meccanismo sistemico che ci conduce, non sappiamo dove, ma potrebbe condurci alla catastrofe, perché non c'è più questa capacità di usare le leve di comando, di guida di questa astronave. Ora, questo è un elemento che, come dire, una diagnosi di fondo, che per noi occidentali, per noi moderni, che siamo figli delle grandi rivoluzioni, delle idee dell'89, che abbiamo quest'idea di una emancipazione collettiva della società attraverso una sovranità espressa dal popolo, quest'idea è quanto di più, come dire, drammatico si possa concepire. Cioè lo svuotamento, l'esautoramento della nostra capacità di esercitare una regia, una forma di autogoverno o anche solo di autolegislazione, in termini di strutture di democrazia rappresentativa, che consenta a noi, il popolo, di orientare le scelte di fondo della nostra collettività. Quindi questo è veramente il problema fondamentale che sta alla base, secondo me, di questa nuova situazione di estrema incertezza e di percezione particolarmente acuta dei rischi che incombono su di noi. Noi viviamo in un mondo, forse in estrema sintesi potremmo dire, viviamo in un mondo fuori controllo. Questa, secondo me, è il messaggio di fondo che ci viene dalla teoria di Beck. Ora, noi siamo un po' a distanza di tempo rispetto alla fase in cui Beck scriveva queste cose e possiamo dire che forse Beck, che pure ha avuto queste intuizioni straordinarie e anticipatrici, forse oggi possiamo dire che per certi versi ci ha dato una diagnosi un po' sfocata delle patologie del presente. Beck è morto prematuramente nel 2015, già molte cose erano visibili, però forse alcuni eccessi, alcuni drammi del mondo contemporaneo solo negli ultimi anni, almeno la mia esperienza personale è questa, che alcune cose sono diventate più evidenti negli ultimi anni e cosa è diventato più evidente. Secondo me l'elemento che manca non è un elemento che cambia la diagnosi di Beck, ma l'elemento che la completerebbe e che secondo me è indispensabile per comprendere questa dinamica che produce instabilità, rischi e incertezza nel mondo di oggi è la dinamica economica, la dinamica di un capitalismo neoliberale che mostra sempre di più il suo aspetto minaccioso e di estrema fragilità, d'altra parte, un'estrema minaccia e un'estrema stabilità. Io non voglio farla troppo lunga, adesso concludo facendo una specie di elenco, secondo me, delle forme di instabilità, di incertezza, di rischio con cui siamo oggi confrontati, io ho pensato di, siccome sono quattro elementi e sono quattro elementi terribili, vorrei elencare, presentarli come i quattro cavalieri dell'apocalisse della nostra epoca. Questi quattro cavalieri con cui ci troviamo a lottare sono il primo, il rischio sanitario, tutta la situazione nuova che ci presenta la pandemia è che non è una semplice catastrofe naturale, deriva da un'organizzazione della società civile transnazionale in cui tutta una serie di debolezze, fragilità, mancanze di controllo fanno sì che problemi di natura locale molto rapidamente possono diventare problemi di natura globale. Quindi si tratta di un risultato di una società globale stabilizzata a malapena da una rete planetaria di rapporti commerciali, ma priva sostanzialmente di vere agenzie di integrazione e di controllo capaci di metterci al riparo da rischi e crisi di natura sempre nuova. Il secondo cavaliere dell'Apocalisse è l'assetto economico e finanziario globale. E qui vi prego di seguire bene la tesi non parlo del capitalismo in generale, parlo della forma specifica che il modo di produzione capitalistico ha assunto negli ultimi trent'anni sulla base di una scelta ideologica di fondo di una nuova egemonia culturale che è stata raggiunta dai seguaci del pensiero di von Hayek sostanzialmente. Si tratta di un assetto che in qualche modo riflette una sorta di utopia di tipo economico che era stata formulata da Hayek e questa utopia è quella di per dirla con le parole di un di un di Hauke Brunkost che ha scritto un libro bellissimo che si chiama Il doppio volto dell'Europa Brunkost dice che von Hayek in fondo aveva in mente la creazione di una costituzione economica globale cioè una sorta di rete un reticolo di regole convenzioni trattati a livello globale che dovevano avere la funzione specifica di diventare come oggi sono all'interno degli stati nazionali le costituzioni cioè delle regole superiori a qualsiasi altro tipo di espressione della volontà politica insomma è un progetto coerente e sistematico di assoggettamento della volontà politica legittimata democraticamente all'interno degli stati democratici di assoggettamento della volontà politica ad un sistema immutabile di regole economiche soprattutto regole di mercato insomma l'idea tanto diffusa di che ci sia una capacità di autoregolazione dei mercati si traduce in questa concezione in questa specie di come dire capitalismo estremista realizzato come il socialismo realizzato di alcuni decenni fa che pervertiva l'idea di socialismo oggi abbiamo a che fare con un capitalismo realizzato in forma neoliberale che è la vera causa di un assetto nuovo che genera continuamente instabilità perché poi è una cosa che non funziona non è vero che i mercati siano capaci di autoregolarsi tutte le aspettative legate a questa idea si sono rivelate sbagliate noi corriamo da una crisi all'altra e non riusciamo a superarle perché per un aspetto questo tipo di modello di von Hayek si è rivelato stabile e vincente ed è proprio nell'aspetto in cui esautora il potere di controllo e di regolazione della politica e quindi in essi economici la società si autoregola veramente ma lo fa male facendoci pagare sempre di nuovo lo scotto di crisi sempre nuove il terzo cavalier dell'apocalisse quindi come conseguenza del secondo è l'instabilità politica noi viviamo in un quadro globale di soggetti politici che non hanno più neanche lontanamente la capacità di gestione di decisione di incidere sulla realtà che avevano i politici 30 40 anni fa i politici sono privati del loro primato sostanzialmente e rispetto a questo noi come dire abbiamo tre categorie di politici abbiamo i populisti che sono quelli che approfittano di questa situazione cioè che usano l'impotenza della politica strumentalmente facendo richiamandosi a quell'idea di sovranità di primato della politica che sarebbe giusta ma che loro ma di cui loro abusano perché si guardano bene dal mettere in discussione la causa di questo svuotamento della politica che è questa costituzione economica neoliberale che ci domina tutto tutti il secondo tipo di politici sono quelli che accettano docilmente questa nuova situazione e che ritengono che il loro compito che il loro compito sia quello semplicemente di riparare qua e là i guasti della globalizzazione quindi una funzione ancillare riservata alla politica è la persona che con la maggiore chiarezza ha come dire teorizzato questo esautoramento della politica Angela Merkel che con il suo tono garbato ha detto una cosa di una radicalità mostruosa cioè ha detto che bisogna tendere ad una cito democrazia conforme al mercato pensateci bene a questa cosina così tanto modesta democrazia conforme al mercato che cosa significa questo e poi c'è il terzo tipo di politici sono pochi purtroppo ma ci sono che cercano di veramente ristabilire il primato della politica e questo passa soltanto attraverso la restituzione alla politica di quegli spazi di intervento che possono avere soltanto dei soggetti politici non più nazionali ma sovranazionali o istituzioni globali come le Nazioni Unite che dovrebbero essere molto più rafforzate oppure ancora di più grandi soggetti politici regionali come gli Stati Uniti l'Unione Europea quelli avrebbero ancora la possibilità la possibilità di agire di intervenire e il quarto cavaliere è il cambiamento climatico che è la cosa più drammatica il cavaliere più più truce e più minaccioso io dico delle cose scontate lo sappiamo tutti abbiamo circa dieci anni di tempo per bloccare il riscaldamento climatico per bloccare le emissioni di anidride carbonica se non riusciamo entro dieci anni a bloccare tutto questo è quello che Beck chiamava un rischio specifico cioè che già si vede e che già anticipa la catastrofe che sta per procurare noi nel giro di dieci anni dobbiamo fare in modo di evitare l'inalzamento del livello dei mari ancora peggio evitare che andando oltre ad un riscaldamento di un grado e mezzo il permafrost che copre le regioni le regioni più fredde del nostro pianeta si sciolga e questo comporterebbe dalla Siberia dal Canada dall'Alaska la emersione di quantità naturali di anidride carbonica che adesso sono in qualche modo tenute sotto ghiaccio questa anidride carbonica è in una quantità molto superiore a tutto quello che le nostre automobili di tutto il mondo riescono a demettere insomma ci sarebbe un'accelerazione del mutamento climatico che ci sfuggirebbe che ci sfuggirebbe di mano quindi insomma con Beck noi abbiamo delle indicazioni di fondo che ci dicono qual è il quadro delle incertezze in cui dei rischi in cui andiamo incontro e oggi però forse dobbiamo appunto cercare di integrare il discorso di Beck con questi aspetti più strettamente economici che ci danno come dire la drammaticità la concretezza dei rischi l'idea dei rischi cui cui andiamo incontro io non so se ho ancora qualche minuto per dire un'ultima cosa cinque minuti vai vai ancora vai Valter posso? l'ultima cosa Beck in una certa fase della sua parabola di pensiero quando si rende conto di questo quadro estremamente minaccioso che noi non riusciamo in qualche modo lui aveva la consapevolezza del fatto di essere in questa astronave senza il pilota che non riesce più a manovrare e c'è un testo in cui in un libro che lui scrive assieme a Giddens e a Lash si pone il problema del che fare si chiede come possiamo uscire da questa situazione di impotenza in cui ci troviamo e fa una proposta che è una specie di dichiarazione di fallimento di impotenza perché dice avremmo bisogno di un rinnovamento delle coscienze così profondo come quello che condusse alla riforma protestante insomma una cosa epocale un mutamento delle coscienze che praticamente significa che non si può fare nulla questa è la fase è diciamo il primo approccio di Beck alla questione del che fare e poi dopo qualche anno assistiamo ad una correzione di rotta Beck ci dice ci dice Beck comincia a occuparsi di istituzioni di cosmopolitismo di costrutti politici sovranazionali da costruire lo fa anche nella sua maniera come dire provocatoria un po' giocosa ricordo un articolo bellissimo bellissimo sul Corriere della Sera che riprendeva un articolo di Beck quando lui avvia questa fase di cosmopolitica dice negli anni negli anni negli anni del movimento studentesco c'era questo slogan internazionale make love not war fate l'amore non fate la guerra make love not war oggi dice Beck dovremmo modificarlo in questi termini make law not war fate le leggi non fate la guerra quindi c'è questo questo questa prospettiva istituzionalista che che si fa strada nella riflessione di Beck e che ci dice l'unico modo per restituire alla politica legittima democratica il proprio primato e andare andare verso istituzioni di dimensioni maggiori soggetti politici di dimensioni maggiori che abbiano la forza per poter contrastare l'anarchia la irresponsabilità organizzata del della società globale neoliberale e questa forse è diciamo l'eredità più fructosa che ci lascia che ci lascia Beck naturalmente quando noi pensiamo ai dieci anni che ci restano per per bloccare il mutamento climatico è chiaro che noi dobbiamo combattere con le armi che abbiamo non c'è grande scelta non esiste assolutamente la prospettiva di dire cambiamo il sistema usciamo dal capitalismo in dieci anni non esiste ma forse nemmeno la prospettiva di costruirci un quadro istituzionale più efficace per combattere le vere cause di questo mondo fuori controllo che è appunto la costituzione l'assetto neoliberale della società civile globale anche per per raggiungere questo obiettivo dieci anni probabilmente sono troppo pochi quindi come dire forse bisogna pensare di agire adesso così come possiamo con accordi internazionali con non lo so chiudo così il mio intervento grazie Walter grazie per la chiarezza e per anche la sintesi abbiamo parlato di Beckham ma non solo insomma hai posto grandi nodi su cui ragionare che francamente è proprio il piacere di discutere sono già persone che hanno già deciso di chiedere la parola vediamo un attimo procediamo il primo ha chiesto la parola è Pier Giorgio Daniele poi Armando Toscano e poi vi prego di prenotarvi per Giorgio Daniele ma io rispetto anche alla alla tematica del rischio eccetera volevo rilevare una cosa cioè penso che la filosofia cioè io ho fatto gli studi filosofici in questo ultimo quinquennio cioè quinquennio scusate 50 anni si sia fermata appunto a fare rilevamenti su quello che succede tipo il rischio e non ovviamente abbandonare la capacità di sintesi di definizione di capire dei percorsi eccetera eccetera in questo senso almeno dai miei studi filosofici mi è rimasto solo una convinzione che ho appreso nei miei studi che è il procedere dialettico della realtà famoso Hegel e compagnia bella dialettico nel senso che secondo me è una prima cosa che le nostre riflessioni anche per esempio sul rischio dovrebbero assumere che la realtà procede in modo dialettico cioè tesi antitesi sintesi sintesi tesi antitesi sintesi cioè in modo conflittuale innanzitutto tra tesi e antitesi rischio allora traduco la questione del rischio allora io vivo tutti i giorni ognuno di noi vive nella sua composizione della vita dell'uomo della struttura umana diciamo il rischio cioè noi nel momento in cui ci poniamo il problema di rischio calcolato rischio non calcolato imprevisto eccetera eccetera ci poniamo un problema che è strutturalmente filosofico nostro della coscienza per cui non esiste nulla che io faccia tra un secondo che non sia rischio cioè non so quello che succederà allora partendo da questo dato che è strutturale penso ok della nostra specie io mi pongo il discorso di come riesco a capire in quale realtà vivo e come sto andando questo sia a livello individuale che a livello sociale collettivo eccetera allora io colgo l'occasione per chiedere a ferruccio che sia dedicato un modulo nei prossimi mesi eccetera al lavoro di analisi che tra l'altro sto leggendo in questi due mesi di per esempio di questa ultima pubblicazione di Thomas Picchetti capitale e ideologia allora io da questo diciamo sociologo filosofo chiamiamolo come vogliamo Thomas Picchetti già ho letto il capitale nel ventunesimo secolo oggi sto leggendo capitale ideologia e sinceramente mi serve molto e penso che servirà a tutti quelli che lo leggono per dare una interpretazione di come procede il sistema innanzitutto ma la specie umana allora in questo momento che io scopra ci sono delle cose semplicissime in certo senso io scopro che un problema secondo me della specie umana è l'aumento demografico cioè se io ho una popolazione che era dopo le guerre due miliardi e adesso è 7 miliardi proprio in termini matematici fisici eccetera dico che c'è un problema di capacità di questa specie che è aumentata di 5 miliardi di governarsi di creare società cioè sistemi di governo della propria specie ora il problema è che la globalizzazione questi processi eccetera si accompagnano a un aumento per esempio della popolazione mondiale questa epidemia cosa esprime esprime che siamo 7 miliardi e mezzo colpiti da una epidemia in cui i sistemi globali posso chiederti una maggiore sintesi finisco arrivare alla domanda che ritengo la necessità di per esempio il concetto di quello che sta succedendo di individuare anche dei percorsi che stanno avvenendo per il problema di fondo e questa è l'osservazione anche rispetto a tutti i discorsi su rischi non rischi eccetera eccetera il problema di fondo è demografico e di capacità di governo di una popolazione di 7 miliardi e mezzo in cui i sistemi economici e la tecnologia stessa sono messi in discussione per poter governare questa situazione ok benissimo domanda chiara Armando Toscano eccomi buongiorno a tutte e a tutti innanzitutto volevo volevo ribadire il mio entusiasmo per questa scoperta che è la scuola di cultura politica perché sono contributi davvero molto interessanti ringrazio il professor Privitera io sono nato negli anni 80 sono nato nell'82 e credo che sia una parte una matrice generazionale il senso di mancanza di grandi paradigmi per interpretare grandi paradigmi teorici per interpretare la contemporaneità siamo come generazione mi sento bersagliato da una miriade di informazioni del tutto disorganizzate forse anche de-responsabilizzate per citare il concetto di responsabilità e quindi finisce che i grandi paradigmi sono diventati gli stessi problemi è come se avessimo dato il ruolo di scrittore ed interprete della contemporaneità a uno dei quattro cavalieri dell'apocalisse che credo sia il cambiamento climatico che in questo momento è il grande interprete di quello che ci sta succedendo io volevo chiedere al professore un parere rispetto al ruolo che può avere la razionalità tecnica nella soluzione di queste crisi anche alla luce dell'ultima fase istituzionalista del pensiero di Beck e anche alla luce della considerazione circa il fatto che è stata in qualche modo anche questa stessa razionalità tecnica una delle responsabili della crisi che stiamo affermando che stiamo affrontando il razionalità tecnica che per esempio nel pensiero economico è possiamo dire pervasiva grazie grazie Griseri Enrico Griseri ok buongiorno a tutti voglio ringraziare il professore per la chiarezza espositiva e ho un paio di domande a riguardo allora io vabbè negli anni 90 frequentavo un circolo politico niente di particolarmente di sinistra però mi ricordo che all'epoca si discuteva molto dell'Europa a disfruttare abbiamo organizzato dei corsi per spiegare le istituzioni europee e uno dei termini dei riflessioni che giravano erano all'epoca non credo che nessuno avesse letto Fonayek la riflessione era che l'Europa aveva senso come struttura sopranazionale per contrapporsi alla strapotere delle multinazionali all'epoca si usava questo termine senza avere un'idea neanche così precisa perché poi quello che è venuto dopo con la rivoluzione digitale è qualcosa di completamente diverso ecco anzi estremamente più pervasivo però appunto il fatto che non fossimo un circolo particolarmente intellettuale mi fa pensare che fosse un'idea abbastanza diffusa e mi sto chiedendo questa è la domanda per il professore dove è finita questa questa idea dell'Europa come qualcosa che poteva difenderci da un potere economico che ci avrebbe stritolato già allora si pensava una cosa del genere figuriamo l'altra invece l'altra domanda riguarda il professore aveva accennato all'idea di Beck che per cambiare le cose ci vuole un rinnovamento delle coscienze pare alla riforma protestante e da un certo punto di vista è qualcosa di terrificante perché vuol dire un movimento veramente enorme di cambiamento di prospettiva però la riforma protestante è qualcosa che è successo nel passato ci sono dei segni attualmente di un cambiamento di prospettiva di pensiero da parte della società adesso io sto pensando all'ultime cose di Friday for Future e una delle cose che mi aveva veramente colpito dei discorsi di Greta positivamente intendo dire e puntare il dito contro i regolatori politici perché l'ecologia per anni è stata considerata una responsabilità dell'individuo e l'individuo che deve attuare dei comportamenti positivi ecologicamente sostenibili e quindi con il suo il consumatore che vota comprando ecco che guida le aziende acquistando i beni questa prospettiva sta un po' cambiando anche nelle riflessioni che leggo sulle riviste che leggo ci sono degli approcci diversi cioè non basta che il consumatore compri la carne a chilometri zero o non compri la carne addirittura cioè oppure le scarpe fatte in un certo modo perché questo non basta e arrivare alla coscienza di dire guardate questo non basta non è forse richiamare in campo il ruolo di istituzioni evidentemente solo nazionali a questo punto perché il singolo paese da solo combina abbastanza poco in quest'attica grazie 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 Enrico Fiorella Ercoli non vedo Fiorella dove sei eccola Fiorella prego in continuità con la domanda precedente ma allora tanto anche per alimentare la pass costruence diciamo volevo che arricchisse un po' di più il punto la terza tipologia di politici cioè quelli che cercano di ristabilire il primato della politica ecco volevo che si soffermasse un po' di più su questo punto grazie grazie Fiorella ci sono altre domande? non ci sono solo una considerazione Valt prima di darti la parola a questo punto hai trovato questa sensazione molto interessante che il pensiero di Bacon ci appare un po' sfocato hai detto in effetti è il punto davvero molto interessante della riflessione perché è un pensiero dentro il quale in realtà c'era tanti elementi di intuizione straordinaria ma non c'era la critica del neoliberalismo tanto è vero che in realtà Beck non so quanto volutamente cosa sarei curioso di sentirlo da te in realtà venne considerato uno degli ispiratori della terza via addirittura cosa devo dirti che a me sembrava un po' perfino in contraddizione con la profondità l'acutezza delle sue visioni che erano davvero tale da farci pensare in profondità e poi il fatto che venisse giocato nella della battaglia politica quotidiana come ispiratore addirittura del blerismo che mi è sembrato lì un momento di qualcosa che diceva non stava bene ma io ero molto curioso e l'hai gentilmente girata la cosa e l'hai fatta emergere con grande forza però a fine che mi piaccia cogliere questo punto finale del tuo ragionamento a te la parola Valte e richiudere grazie allora procedo per ordine cronologico Pier Giorgio Daniele lì c'è un punto che riguarda questa questo sforzo che troviamo in Beck di rilevare il rischio o di descrivere le situazioni di rischio senza poi delle proposte diciamo senza senza operalizzazione e senza che non siano operazionalizzabili e questo è un è un problema che diciamo troviamo in generale la teoria non è mai un diciamo un un libretto di istruzioni sul che fare in politica sarebbe anche sbagliato se fosse se fosse così perché si tratta di due cose diverse il teorico ci deve dare chiarezza su determinati problemi su un campo di di tensione di conflitti sociali e poi il politico interpreta questi elementi nella sua nella sua nella sua prassi però io credo che nel caso di Beck noi abbiamo qualche elemento in più rispetto a quello che troviamo in tante altre posizioni per esempio permettetemi una osservazione un po' critica nei confronti di un approccio teorico che è molto diffuso e che ha anche molti meriti che sono è l'approccio diciamo decostruzionista quello diciamo di matrice francese fucoltiana che per esempio ha il merito davvero enorme di essere stato il primo a mettere all'ordine del giorno il tema del neoliberalismo solo che lo ha fatto in un modo che non è operazionalizzabile cioè ci ha mostrato tutta una serie di nessi di evidenze per cui noi vediamo come questa mentalità neoliberale questa logica neoliberale pervade un po' tutti i pori della della nostra vita sociale però non ci dice null'altro insomma è un approccio che Habermas questi approcci li chiama narcisisti Bourdieu dice che si tratta di radicalismo da campus insomma c'è una dimensione come dire di autocompiacimento nel mostrare tutta una serie di elementi che sono sicuramente plausibili ma che come dire tradiscono un modo di vedere le cose che è lontanissimo per esempio da quello di Marx in Marx c'era una critica teorica straordinaria ma si sapeva sempre poi a cosa era finalizzata avevamo un quadro in cui e secondo me diciamo il problema e poi non voglio divagare troppo su questo punto ma insomma riguarda alla traducibilità in termini pratici delle analisi e delle proposte il problema è che in questi approcci di decostruzionistici non c'è una dimensione che consideri i soggetti gli attori gli attori politici che sono totalmente assenti e quando mancano gli attori politici mancano anche i conflitti i nomi i cognomi come dire naturalmente a volte sono proprio nomi e cognomi per esempio i fratelli Koch negli Stati Uniti che sono quelli che hanno costruito questa straordinaria macchina da guerra che è il neoliberalismo e hanno finanziato insomma è una storia se qualcuno va a vedersi la che cos'è la San Pelerin Society questa società scusate Mont Pelerin Society questo luogo in Svizzera dove si incontrano nel 47 credo von Hayek e i suoi amici e poi mettono assieme questo incredibile processo politico che ha un successo straordinario negli ultimi 30 anni ecco lì noi vediamo che se si vanno a cercare gli interessi sociali i soggetti politici i gruppi allora possiamo fare delle proposte più operazionalizzabili quindi secondo me diciamo una traccia potrebbe essere questa di fidare un po' o almeno di prendere con granosalis questi approcci soltanto di tipo decostruzionistico un esempio ci viene proprio sempre Pier Giorgio Daniele parlava di Picchettino ci sono degli allievi di Picchettì che si chiamano Saez e Zuckman che hanno scritto un libro bellissimo è uscito da Einaudi pochi giorni fa si chiama Il trionfo dell'ingiustizia andatevelo a leggere è un piace non ha non è molto tecnico sul piano economico sono degli economisti ma è molto agevole da leggere e lì si vedono lì lì siamo in ambiente come dire marxista nel senso che vediamo i gruppi di interesse vediamo i conflitti vediamo concretamente chi sta da una parte chi sta da un'altra cosa si può fare e cosa no sì poi sulla demografia certo quello è un problema un problema importante ma lì c'è di nuovo questa cosa che dicevo prima abbiamo solo dieci anni di tempo di più non abbiamo per cercare di sottrarci alla catastrofe ci sono proposte ci sono quelli che dicono per esempio diamo noi costituiamo noi paesi ricchi un fondo e garantiamo una pensione a tutte le mamme africane che non fanno più di due figli sarebbe un strumento per un incentivo a per andare incontro a questa idea che è molto diffusa che più figli si hanno più si ha sicurezza i figli sono come dire l'equivalente della pensione in questi comunque lasciamo stare questo argomento io non posso seguire Toscano parlava del ruolo della razionalità tecnica la razionalità tecnica non la dobbiamo demonizzare naturalmente è chiaro che anzi ci sono tutta una serie di impulsi che ci vengono dalla razionalità tecnica scientifica che ci può aiutare a superare tutta una serie di problemi per esempio ci sono delle modalità interessantissime per cercare di limitare o imprigionare l'anidride carbonica evitare che vada nell'atmosfera oppure insomma tutto quello che noi possiamo fare oltre che limitarci sostanzialmente noi dovremmo fare due cose smettere di usare i trasporti privati cambiare il riscaldamento delle case fare in modo che non utilizzino tutta questa energia con modalità di coibentazione migliori e smettere di mangiare carne dobbiamo fare queste tre cose ma sono così sembra poco invece è un'impresa indescrivibile nella sua poi andatelo a raccontare a quelli che si affacciano adesso per la prima volta alla società del benessere che non devono usare la macchina che non devono mangiare la carne insomma e in questo senso la razionalità tecnica ci può dare forse qualche indicazione per alleviare un po' il percorso per consentirci di permetterci qualcosa ancora ma di più non so non mi sento di dire poi Griseri mi diceva la riforma la riforma certo e c'è stata poi la riforma cioè noi abbiamo la riforma stessa testimonia del fatto che l'umanità è capace di questi straordinari momenti di ritrasformazione del del mondo tramite idee e certo certo è vero però dobbiamo anche tenere presente che Lutero è l'ultimo di una serie di monaci riformatori critici della chiesa che per almeno 200 anni lo avevano preceduto ed erano stati tutti uccisi bruciati vivi ridotti al silenzio e lui per tutta una serie di circostanze fortunate riesce poi in quello che non erano riusciti a fare gli altri insomma sì di nuovo il problema dei tempi noi non possiamo permetterci di aspettare 50 anni o 100 anni fino a quando arriverà il Lutero politico però è vero questo non significa però che io non condivida come dire l'impostazione e l'ispirazione che viene da questa domanda mi veniva in mente per esempio una frase un'osservazione di Bordieu in un libro che purtroppo non riesco più a trovare questa citazione ma Bordieu la detta la scritta Bordieu diceva noi viviamo e questo non ieri lo diceva già quindicina di anni fa credo diceva noi viviamo in un mondo dove c'è un bisogno di politica oscuro sottotraccia che non riesce a trovare dei canali giusti per esprimersi ma è un bisogno così profondo e così radicale che è paragonabile solo col bisogno di rinnovamento spirituale che poi portò alla riforma quindi e secondo me si tratta di una intuizione straordinaria anche ci dà delle parole per dirci quanto profondo sia questo desiderio di riscatto della politica di restituzione alla politica del proprio primato e in questo se mi permettete sta anche in un certo senso il minimo di nocciolo di verità dei dei populisti i populisti approfittano cinicamente di questo senso di impotenza della rappresentazione politica che è sotto gli occhi di tutti cioè noi viviamo in un mondo in cui anche se domani in Italia un partito c'è ancora rifondazione comunista no credo che non esista più immaginiamoci che ci sia ancora rifondazione comunista e prendesse il 90% dei voti in Italia beh l'abbiamo visto in Grecia cosa succede cioè in realtà la politica è sotto tutela dei mercati transnazionali e quindi noi dobbiamo cercare vie diverse vie nuove per dare uno sbocco giusto razionale e praticabile a questo incredibile bisogno di partecipazione e quindi dove è finita l'Europa e dove è finita l'Europa e e qui poi proverei anche a rispondere a questa alla domanda di Fiorella che diceva il terzo tipo il terzo tipo di politici quali sono i politici del terzo tipo intanto dove è finita l'Europa secondo me il problema relativo all'Europa è quello di una degenerazione di tipo intergovernativo del governo dell'Europa l'Europa si è trasformata passatemi l'immagine prima era una specie di un club di stati e capi di stato che avevano fatto assieme di nuovo nel libro Brunskost nel libro sull'Europa racconta benissimo questa storia tutte persone era un'intera generazione che vedeva nell'Europa il riscatto il superamento del dramma della guerra ed era con tutti i limiti i conflitti gli interessi diversi era comunque un orizzonte condiviso che era quello di approfondire l'unione politica del continente dal momento in cui invece dal momento in cui noi ci siamo schiantati ci siamo scontrati con la crisi del 2008 la crisi finanziaria dei subprime americani che poi è diventata la crisi finanziaria delle banche soprattutto tedesche e francesi e poi dopo è diventata è stata come dire trasferita sulla crisi del debito è stata come dire riformulata come fosse una crisi del debito ecco da quel momento noi vediamo che le urgenze la la gravità dei problemi la incompletezza della struttura istituzionale europea hanno fatto sì che in questa situazione di emergenza fossero i capi di governo a prendere le redini dell'Europa esautorando di fatto la commissione che è il nucleo di governo di governo europeo dove è finita l'Europa è finita in mano agli intergovernativi che hanno trasformato questa Europa proto-federale o orientata a un federalismo l'hanno trasformata in una specie di congresso di Vienna permanente dove il metternich della situazione non sta a Vienna ma sta a Berlino adesso ed è vero che adesso abbiamo sicuramente una situazione da quando c'è stato questo fondo che è stato stanziato di 750 miliardi che cambia veramente la situazione ma non è stato perché c'è stata una illuminazione è stato perché se non fosse venuto questo fondo ci sarebbe stata una frattura profondissima all'interno dell'eurozona e probabilmente si sarebbe creata un'entità si parlava di eurobond dell'eurozona senza la Germania e questo avrebbe creato un potenziale di instabilità incredibile ma sarebbe stata probabilmente una prospettiva inevitabile e quindi chi sono i politici del terzo tipo? Sono tutti quelli che in qualche modo con fatica cercano di portare avanti di combattere l'Europa intergovernativa e di instillare delle dosi di federalismo crescente all'interno del progetto europeo e per quanto paradossale possa sembrare secondo me quello che fa meglio questo mestiere è Macron è il neoliberale Macron che in politica interna è criticato giustamente per le sue scelte che non sono certo quelle di un politico di sinistra ma sul piano istituzionale è l'unico che ha un quadro preciso di come combattere lo fa forse per motivi come dire di rivalità nei confronti dello strapotere attuale della Germania che in certo senso utilizza attualmente bisogna dirlo utilizza l'Unione Europea come una specie di piedestallo su cui mettersi abusivamente per poter trattare come dire da pari a pari con i grandi del mondo come se potesse davvero rappresentare i 450 milioni di europei cosa che a volte è avvenuto di fatto ma non ma non ha nessuna legittimità per farlo e quindi gli altri più deboli si devono mettere assieme e cercare una strategia di democratizzazione dell'Europa il convento ci offre Macron in questo momento come capofila se avessimo in Italia qualcuno capace di fare questo discorso e poi l'osservazione di Ferruccio io devo confessarti che questo è stato come dire il rovello principale alla base di tutta la costruzione di questa mezz'oretta di presentazione che ho fatto perché c'è veramente un'ambiguità di fondo in Bank cioè l'idea che lui fosse quello della terza via il Blairiano questo assolutamente no è vero che lui ha collaborato con Giddens e che Giddens a sua volta è stato l'ideologo di Blair sì è vero è vero ma questo non c'è la proprietà transitiva su questo secondo me e devo dire che lui probabilmente probabilmente quando faceva questo discorso sul cosmopolitismo sulla necessità di costruire un'Europa per combattere la sfida mortale che viene dal capitalismo transnazionale come dire aveva un quadro si sfocato cioè aveva individuato il problema ma non aveva non si era reso conto della delle forme concrete che questo capitalismo transnazionale questo svuotamento del potere del primato della politica avevano veramente acquisito e da questo punto di vista secondo me il contributo più importante appunto non viene tanto dai Foucaultiani che ci parlano del potere neoliberale con la P maiuscola viene proprio da questi qui questi economisti economisti come Piketty come Saez Zuckman come Atkinson c'è un libro bellissimo di Atkinson che adesso ce l'ho qui poi in stanza insomma Atkinson credo che ci sia solo un libro di Atkinson che è quello che nella Gran Bretagna neoliberale a un economista di grandissima levatura è stato quello che ha tenuto come dire accesa la fiaccola di una concezione socialista classica proprio nel momento in cui in Gran Bretagna prevaleva questa rivoluzione taccheriana è bleriana dagli effetti devastanti e quando si legge Atkinson si vede ci si rende conto ci si rende conto nei dettagli di quante cose quanti dettagli del del mondo del del welfare state degli anni 60 e 70 quanto sia stato distrutto di questo mondo e ci si rende conto del fatto che per superare questo strapotere neoliberale invece di fare le analisi dei costruzionisti bisogna andare lì proprio a girare le rotelle a revocare tutte queste politiche di esautoramento dei sindacati di spogliazione del dello stato sociale di affamamento della bestia statale come veniva chiamata dal dai economisti neoliberali insomma bisogna fare un discorso come dire molto più concreto e legato alla dimensione economica in questo senso sì quindi Ferruccio sì secondo me il limite secondo me Beck non aveva l'intenzione di fare una politica di legarsi a una concezione neoliberale ma gli mancava la consapevolezza della dimensione economica dei discorsi che faceva allo stesso modo in cui la stessa teoria critica tutta la scuola di Francoforte che ha dato contributi straordinari non ha finora dato un contributo apprezzabile in campo economico per capire la specificità economica di questo dominio di questo dominio neoliberale che è ancora attuale grazie Walter francamente ho bisogno di ringraziare tantissimo adesso a conclusione posso solo raccontare un piccolo in realtà devo confessare che noi abbiamo cercato tante volte di avere Beck come ospite in casa della cultura abbiamo fatto tanti inviti tramite la nostra amica Carmen Leccardi abbiamo cercato in tutti i modi di farlo la cosa non siamo mai riusciti a portarla a termine ci manca perché avrei voluto discutere proprio con lui in questi termini esattamente come nell'ultima parte del tuo ragionamento è uscita questa problematica è una problematica però di grandissimo interesse di grandissimo fascino non abbiamo potuto farla direttamente con lui insomma stiamo continuando a farla adesso in questo nostro percorso di ricerca grazie ancora Walter avremo sicuramente mille altre occasioni di incrociarci presto spero approfittando anche di questi mezzi intanto io ringrazio tutti l'attenzione ci rivediamo alle due e mezza per l'occasione che mi avete dato è stata una cosa molto piacevole sono preziosi da tanti punti di vista che si scambi davvero preziosi per tutti quindi ci rivediamo alle due e mezza con Giorgio De Michelis dove discuteremo di un nodo importantissimo la scienza la digitalizzazione in qualche modo già è entrato nella discussione anche ieri con grande forza dell'angolatura particolarissima oggi la affronteremo con uno dei maggiori studiosi italiani di informatica Giorgio De Michelis alle due e mezza ci vediamo intanto buona giornata ciao Giorgio